Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da Karim, le previsioni del lotto da giocare Ok, da martedì 24 gennaio per tre colpi su Bari, Torino, nazionale e tutti Ok, giocate come volete voi, Bari, Torino, sicuramente e tutti Ok, allora, chi vuole continuare con il 24 e il 42 sono ancora validi Chi vuole giocare lo gioca per quarto o quinto colpo ancora, ok Tra i colpi non è uscito niente per chi vuole giocare Adesso queste nuove previsioni consigliate che io le voglio giocare E speriamo bene che escono già il primo colpo, ok Allora, le previsioni sono queste A proposito, grazie a tutti quanti dei vostri commenti E saluto a tutti quanti Ok, andiamo avanti Allora, questa volta abbiamo messo il 90 Questa volta ragazzi c'è il 90, ok Le previsioni del lotto, 29-90 Amboambetto, chi vuole giocare? Amboambetto Bari, Torino, nazionale e tutti, ok? Che vuole, mi raccomando, giocate sempre poco E... Sempre un gioco, ok? I numeri sono usciti come stati studiati Qua non guardate come sono usciti, va bene, ok Andiamo avanti E ho cambiato di nuovo il sistema di un metodo nuovo Speriamo che anche con il 10 all'otto stessa cosa Ho cambiato il metodo, ok? Allora, 29-90 Bari Torino, nazionale e tutti E poi, chi vuole, lo dico di nuovo, chi vuole giocare ancora il 24 E... Il 42 Su Bari Avevo messo Bari, Genova e nazionale Chi vuole continuare ancora a giocarle Lo gioca, ok? Mi raccomando, ragazzi Sempre un gioco questo Sempre un gioco Boh Un divertimento Mi raccomando Ok Giocate come volete Oppure volete unirli insieme a questi Vedete voi Perché questa volta Il 90 Che mi piace Anche se è uscito a Torino Il 90 Però Si può giocare ancora, ok? Ok Adesso preparo il 10 all'otto serale E tanti che me lo chiedono Dopo di questo video Preparo il 10 all'otto serale, ok? Lo trovate sempre in canale Che non... YouTube E che non è ancora iscritto Si iscrivi Lo sapete Le mie previsioni Sempre gratuiti Ciao ciao da Karim Buon pomeriggio a tutti Buon pomeriggio da Karim Le previsioni del lotto Da giocare Da martedì 24 gennaio Per tre colpi Su Bari Torino Nazionale E tutti Ok? Giocate come volete voi Bari Torino Sicuramente E tutti Ok? Allora Chi vuole continuare con il 24 Il 42 Sono ancora validi Chi vuole giocare Lo gioca Per quarto O quinto colpo ancora Ok? Tre colpi Non è uscito niente Per chi vuole giocare Adesso queste nuove Nuove previsioni Consigliate Che io le voglio giocare E speriamo bene Che escono Già il primo colpo Ok? Allora Le previsioni Sono Questi A proposito Grazie a tutti quanti Dei vostri commenti E saluto a tutti quanti Ok Andiamo avanti Allora Questa volta Abbiamo messo il 90 Questa volta ragazzi C'è il 90 Ok? Le previsioni del lotto 29 90 Ambo ambetto Chi vuole giocare Ambo ambetto Bari Torino Nazionale Tutti Ok? Chi vuole Mi raccomando Giocate sempre poco E Sempre un gioco Ok? I numeri sono usciti Come stati studiati Qua non guardo Guardate come sono usciti Va bene Ok andiamo avanti E Ho cambiato di nuovo Il sistema Di Un metodo nuovo Speriamo che Anche con il 10 All'otto stessa cosa Ho cambiato il metodo Ok? Allora 29 90 Bari Torino Nazionale Tutti E poi Chi vuole Lo dico di nuovo Chi vuole giocare ancora Il 24 Il 42 Su Bari Avevo messo Bari Genova E nazionale Che vuole continuare ancora A giocarle Lo gioca Ok? Mi raccomando Ragazzi Sempre un gioco Questo Sempre un gioco Un divertimento Mi raccomando Ok Giocate come volete Oppure volete unirli insieme A questi Vi dici voi Perché questa volta Questo 90 Che mi piace Anche se è uscito A Torino 90 Però Si può giocare ancora Ok? Ok Adesso preparo Il 10 all'otto Serale E tante che me lo chiedono Dopo di questo video Preparo Il 10 all'otto Serale Ok? Lo trovate sempre In canale Che non Youtube E che non è ancora Scritto Si iscrivi Lo sapete Le mie previsioni Sempre gratuiti Ciao Ciao Da Karim